Sono molto, molto contento di avervi conosciuto. Dovrò impegnarmi a migliorare anch'io per difendere i miei amici. Allora, cosa hai in mente di fare? Alcuni di loro sono invincibili, ma altri no. Ma sono i miei amici più cari e non voglio perdere. Beh, ho appena scogitato una nuova tecnica di combattimento. Così non perderò nessuno di loro. Gear Second! D'ora in poi, nessuno sarà alla mia altezza. Tutte le mie tecniche si evolveranno. Il mio potere aumenterà di livello. Sta bleffando. Gum Gum! Immagino tu voglia colpirmi. Ma ho tutto il tempo per schivare l'attacco. Jet Pistol! Mister Gum Gum! Quel ragazzo riesce a spostarsi con troppa velocità. Sta utilizzando il Soro, una delle sei tecniche. Porta aria! E' scomparso. Porta a porta! Io ho capito come si fa. Per merito vostro ho imparato una tecnica molto preziosa. Gum Gum! Lo fermerò con un potentissimo Tekkai! Tekkai! Jet Pazooka! Jet Pazooka! Non importa, adesso ti farò vedere una mossa ancora più interessante. Gear! 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 Gear!